Si è scagliata contro la madre, l'ha afferrata per il collo ed infine l'ha cacciata di casa, il tutto per avere i soldi per comprare la droga. Ancora un altro episodio di violenza familiare che questa volta si è consumato a Sansepolcro, dove una ragazza di 23 anni con precedenti di polizia e problemi di tossicodipendenza è stata denunciata dai carabinieri. La madre della giovane infatti si è rivolta ai militari dell'arma dopo l'ennesima aggressione subita dalla figlia. La donna, che si era rifiutata di darle soldi per comprarsi la droga, sarebbe stata così minacciata ed insultata. La giovane addirittura le avrebbe scagliato addosso dei bicchieri e l'avrebbe afferrata per la gola, costringendole infine ad allontanarsi di casa. Investigatori hanno poi accertato che la ragazza, per procurarsi soldi per l'acquisto delle sostanze stupefacenti, si prostituisse oltre a sottrarre ingenti somme di denaro alla madre. La donna, così disperata ed esasperata dalla situazione, ha infine trovato il coraggio di raccontare ai carabinieri le molteplici angherie subite e di come si fosse più volte frapposta tra la figlia e i suoi spacciatori nel tentativo, purtroppo senza successo, di aiutarla.